Petinari, siamo di nuovo qui a Fontanelle, in via caduti per servizio. Le problematiche restano, sono tante. Ci sono anche altri episodi che sono accaduti negli ultimi tempi e che sono sicuramente inquietanti. Si aumentano di giorno in giorno. Da vent'anni che conduciamo questa battaglia è nostro dovere starci, riaccendere i fari, perché queste persone non ce la fanno più. Cittadini onesti che sono costretti tutti i giorni a subire vessazioni, angherie, violenze. Abbiamo mostrato delle immagini questa mattina, poi vi racconteranno anche le persone, di gatti bruciati, dati alle fiamme, messi a fianco di fronte ai portoni dell'abitazione come segno comunque di violenza, di intimidatori. Sono dei gatti che sono stati addirittura uccisi con dei petardi. Ecco, qui ci sono anche delle baby gang che si divertono a fare queste cose. Poi nel fine settimana partono, si spostano, vanno nel centro cittadino e capitano tutte quelle situazioni di aggressioni, violenze e quant'altro. Quindi l'appelto forte ai cittadini che vivono al centro non è un problema solo delle periferie. Questa è una lotta che va fatta uniti, perché le bombe sociali poi partono dalle periferie e si spostano nei centri. Ma non solo questo è il problema. Qui ci sono persone che spaccio di droga H24 giorno e notte all'interno di case popolari che quando va bene si paga 15 euro a 20 euro, 30 euro al mese, poi le occupano abusivamente, le sottraggono le persone che hanno diritto. Ci sono aumentate anche le occupazioni abusive e quindi ci sono tante povere famiglie con disabili che stanno in attesa in graduatoria e non possono avere un alloggio popolare perché il delinquente occupa abusivamente e c'è la casa popolare. E non solo aumentano anche le infiltrazioni d'acqua. Qui ci sono persone, sono testimonianze di persone che sono venute stamattina il cui marito è morto perché la casa è infiltrata d'acqua, la fatiscenza, i muri incostrati e quant'altro non si può andare avanti. Persone che muoiono all'interno delle case popolari perché cadono a pezzi. Questo è vergognoso. Io chiedo, e adesso continuerò a muovermi in questo senso, che qua venga istituito un servizio di pattuglia, ma non che ci prendi in giro, che dalla rotatoria venga al capolino e torni indietro. Via Caduti per servizi è grande. Ci deve essere istituito un servizio di pattuglia degno di questo nome.